Do qui il 13 di ottobre, demonio Sicilia, omosex. Senti, hai dovuto della bolla di Francisco. Se l'invincibile flotta con l'invincibile armata, ostentano di per sé le loro ambizioni, o le loro stupide credenze luterane, si sbagliano di grosso. Io, benché omosessuale e demonio, fui cattolico rosarista e sinceramente questa provocazione non è piaciuta a nessuno. Per ovvi motivi storici e ovviamente anche per situazioni politico-religionse. Ovvio che il Papa ha dovuto dimettere dall'incarico st'onglessino. Ma mi dico una cosa, lei si è permesso di fare questo perché in tempo addietro aveva già parpassato la sua bolla al Papa. Così avrebbe fatto un ennesimo scandalo. E che cazzo c'è la ronda? Il Vaticano e il Laterano non sono l'esoterismo universale, ma a questi sono da uccidere.